Don Francesco Pori, il Cammino dello Spirito, luoghi e percorsi, questo il titolo della prima iniziativa che vede qui a Bergamo riunite alcune delle realtà, alcune agenzie e non solo che si occupano di turismo religioso. Sì, è una esperienza interessante perché il tema del turismo religioso interessa molte persone che vogliono vivere una esperienza appunto di un percorso che potremmo dire un pellegrinaggio, pellegrinaggi e iniziative che in qualche modo conciliano l'esigenza di viaggiare, che è una esigenza del nostro tempo, con l'esigenza anche di riconciliarsi con la dimensione spirituale. Allora non perché creare un luogo dentro il quale si ragiona e si guarda a tutto questo segmento del turismo che è molto interessante anche da un punto di vista del Cammino della Chiesa. Un'edizione zero l'ha definita poco fa. Sì, nel senso che questa è una forma sperimentale di percorso che quest'anno trova qui la sua collocazione in una dimensione ancora iniziale ma che ha già tutte le premesse per uno sviluppo ed una crescita esponenziale. Lo vediamo dall'interesse che questa fiera sta avendo già dalle prime ore. Diversi patrocini, senz'altro la presenza e il contributo più importante viene proprio da Promoberg, dall'ente fiera di Bergamo. Sì, la fiera di Bergamo si è resa disponibile a ospitare questo evento perché coglie in questa opportunità un'occasione di crescita e di sviluppo per il nostro territorio bergamasco e anche una vetrina per poter portare la nostra realtà locale in un contesto nazionale e internazionale. Poi noi a Bergamo sul tema del turismo religioso, sull'esperienza dei cammini dello spirito e della fede non dobbiamo ricevere lezioni da nessuno. Abbiamo dei luoghi molto belli di fede, di preghiera, realtà di pellegrinaggio molto interessanti e poi siamo gente che ha voglia di fare esperienze di cammini di pellegrinaggio e di cammini dello spirito.